E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Gentili amiche ed amici sportivi ben ritrovati con lo spettacolo della Serie A Team. 25esima giornata del campionato con il Napoli che deve rispondere immediatamente alla vittoria della Juventus nel lunch match contro il Turino. Un Napoli che affronta la SPAL. E' iniziata Napoli SPAL, possesso di palla per gli ospiti. Riviani. Inserisce poi Insigne ancora per Mertes. Insigne, Insigne e a giro la deviazione, il palo! E Meret si trova il pallone tra le mani. Allan. Triangolazione con Cajéon. Allan è solo. Allan va in vantaggio il Napoli. Dopo sei minuti di gioco ha segnato Allan. Triangolazione come lama nel burro il Napoli. Napoli in vantaggio. 1-0. Con il quarto gol in questo campionato per Allan. Mertes va via. Mertes ne salta un paio. Ancora Hamsic per Cajéon. Si salva Mertes. Coulibaly. Coulibaly, addirittura Coulibaly con il destro! Palla fuori. Addirittura Coulibaly cerca la conclusione della distanza. Insigne. Spazio ancora per Mertens. Mertens! La respinta di Meret. La gran parata di Meret che sta facendo una partita assolutamente di ottimo livello. Appoggio per Grassi. Tra me ancora Antenucci dentro l'area. Frena Antenucci. Antenucci ancora con il destro. Alleggerisce per Viviani! Blocca Reina. Hamsic ha spazio. Hamsic con il destro! Meret! Ancora lui. È iniziato il secondo tempo. Andrà a me. E anche qui recupera palla. Giorginio. Da Giorginio Mertens. Mertens! Chiude Meret. Mertens. Sud Mertens. L'intervento di Grassi. Poi Allan. Controllo. Allan. Il pallonetto. Hamsic. 2-0. 2-0 del Napoli. Il gol di Marek Hamsic al sessantatresimo minuto. Gol annullato. Fuori gioco. È fuori gioco di Hamsic. Giorginio Marek. Cagliejon. Mette in mezzo Cagliejon. Il tocco sotto misura. Si mangia. È possibile 2-0 al B-Hall. Va Mertens con il destro. E la palla che termina fuori. Fuori di pochissimo. C'era tutta la spalla in barriera. Giorginio. Insigne. Insigne dentro l'aria. Slalom di Insigne. Tra i paletti dei giocatori della SPAL. Palla fuori. A posto così. Finisce con la vittoria 1-0 del Napoli sulla SPAL in questa 25esima giornata della Serie A Team.